La scorsa volta ci eravamo lasciati qua dove praticamente c'erano tutte queste stanze e tutte queste stanze praticamente nascondono dei segreti Io ho continuato questo ponte e mi sono collegato a questa stanza qui e adesso andiamo a vedere cos'è Allora ho paura ad aprire ok perfetto entro ok allora praticamente c'è un video come le scorse volte Ma che diavolo certo raga che questi video sono sempre inquietantissimi se posso dir la mia E qua ovviamente c'è un'altra porta entriamoci Ok questa è una stanza gialla e non c'è nessun video però vedo che c'è un ascensore Raga ma cosa sta succedendo dove sono questo posto ma non si vede niente Ok aspetta questo mi sembra un iron golem il che è indice del fatto che siamo effettivamente in un villaggio di minecraft Io ho paura di camminare perché non so che cosa posso ritrovarmi davanti a me Oh mio dio Oh mio dio No scappa No 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 questo è purple raga mi sta uccidendo raga no 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 Ho mezzo cuore raga ho mezzo cuore raga raga Questa è una casa è una casa è una casa No 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 via Raga via dai muri perché questo qua ci ammazza Questo è purple vedete ancora qua Io ho ancora blindness ho ancora blindness per 11 secondi Per carità divina vai via per carità per carità ok Ti prego via via non voglio vederti Adesso direi di vedere un attimo cosa c'è in questa casa Vabbè c'è una sella non c'è molto forse però ok Beh almeno questa armatura so che non è molto so che non ci protegge tanto Ma almeno è qualcosa raga è stato terrorizzante Che caspita di fine ha fatto parlo Io direi di uscire in modo molto cauto Da qui e vedere un attimo che cosa Scusate un attimo ma che Ma 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 raga ma che cavolo è sta roba Io mi voglio assicurare che si veda tutto Ma che cosa è successo qua Che cosa sono questi buchi raga dove sta No 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 non è normale Tutto ciò non Tutto ciò è È super inquietante Io non so nemmeno cosa dire È inquietantissimo non è normale Raga tipo questo mondo secondo me è tipo malato Vedete poi lì è tutta colpa peraltro secondo me dei rainbow friends Che l'hanno maledetto praticamente Inoltre ci sono pure i mob qua Raga cosa sono queste linee nel pavimento Che tipo continuano guardate anche qua Guardate anche qua Guardate Guardate continuano Ma è assurda sta cosa E da qua sotto si elevano Questi mega pillar che vanno fino in cielo Senza motivo E poi inoltre Perché questo mondo è così tanto infestato Da questi rainbow friends Che peraltro sono potentissimi E hanno un sacco di vita Se vedete 444 Vedete quella roba dove c'è scritto purple sopra Ho due cuori No 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 Via 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 Ok Ovviamente dovete aiutarmi voi nei commenti Per capire Fate Oh mio dio sono anche morto Raga sto qua mi ha ucciso Allora scrivetemi voi nei commenti per favore delle teorie Su che cosa può essere successo qua Iscrivetemi che cosa dovrei fare per indagare meglio questo posto Perché C'è bisogno Lasciate like Iscrivetevi al canale per favore Perché Così almeno Vedrete anche I prossimi aggiornamenti di questo mondo Maledetto Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao